salve a tutti vista l'attuale situazione coronavirus mi è stato chiesto da alcuni clienti la possibilità di utilizzare un software per poter gestire i compiti a distanza senza usare quello prettamente della scuola ho scelto google classroom che può essere utilizzato sia su classico pc che su tablet e telefonini in questo esempio qui vi mostrerò il docente che utilizzerà un computer mentre uno degli alunni utilizzerà uno smartphone al docente servirà semplicemente loggare con il proprio account google al seguente indirizzo fatto questo inseriamo le nostre credenziali e andiamo a cliccare su questa freccia qui in alto nel caso del docente andremo a cliccare crea corso leggiamo tutta l'informativa e selezioniamo ho letto e compreso l'avviso sopra apparirà la seguente finestra dove andremo inserire il nome del corso che è l'unico dato obbligatorio da inserire dopo di che abbiamo sezione materia stanza che sono dati superflui che possiamo mettere come non mettere io li metterò tanto per inserirli in questo esempio una volta inseriti i dati andiamo a cliccare su crea passerà qualche secondo per far sì che venga creata la stanza del corso e ci troveremo nella nostra classe virtuale clicchiamo su ok possiamo modificare la grafica con dei vari sfondi qui troviamo il codice corso questo importantissimo ci basterà dare infatti questo codice per permettere ai vari alunni di partecipare al corso e quindi ricevere i compiti e inviare i compiti questo codice lo utilizzeremo dopo ovviamente un codice univoco quindi ogni classe virtuale avrà il suo codice non c'è rischio che due classi abbiano lo stesso codice questa qui la nostra bacheca dove noi possiamo inserire dei documenti ma anche dei semplici messaggi da inviare vari alunni possiamo anche inserire un timer per far spuntare un determinato messaggio o una determinata ora e un determinato giorno possiamo scegliere di condividerlo con tutti gli utenti aggiungere dei file cliccando su aggiungi questo è il metodo più veloce più semplice anche per inviare un testo da leggere eccetera eccetera vi faccio vedere subito come si fa mettiamo condivisione con il corso matematica espressioni clicchiamo su aggiungi ci apparirà una finestra a tendina dove possiamo scegliere da dove andare a prendere il file in questione che vogliamo condividere possiamo prendere google drive ma andiamo a prendere dal nostro pc perché io il file già ho preparato prima in questo caso io l'ho messo sul desktop possiamo o trascinare il file possiamo anche aggiungere altri se vogliamo oppure possiamo andarlo a selezionare e cercarlo tramite l'explorer clicchiamo apri clicchiamo carica una volta che il file è stato selezionato e il file qui pronto adesso vedete qui pubblica è diventato evidenziato cioè colorato adesso andiamo a prendere questo bel codice e lo andiamo a distribuire i nostri alunni adesso fermiamoci un attimo quello vedete qui è la simulazione di uno smartphone con android clicchiamo sul lo store di google e andiamo a scrivere class ok qui è il primo google classroom clicchiamo sopra clicchiamo install come qualsiasi altra applicazione applicazione molto piccola quindi non occuperà neppure tanto spazio all'interno della memoria del vostro telefono apriamo clicchiamo su inizia scegliamo l'account da utilizzare se non ne avete uno ne volete utilizzare una parte potete crearne un secondo cliccando su aggiungi account oppure selezionate quello già di base al vostro telefonino android e seguite le opportune verifiche che vi verranno richieste dal vostro telefono date gli ok finale e cliccate su inizia adesso anche l'alunno alla sua pagina di google class room ma ancora non è scritto a nessuna classe quindi andiamo a cliccare sul tasto più e ci scriviamo al corso del docente inserendo il codice che il docente ci ha già inviato inseriamo il codice clicchiamo su iscriviti e siamo nella nostra classe ora quello che vedete alla vostra sinistra è quello che vede il docente quello che vedete nella vostra destra è quello che vede l'alunno per comodità io vi faccio vedere in contemporanei andrebbe le cose qui c'è il documento che abbiamo preparato prima possiamo prepararlo anche ovviamente dopo non è detto che dobbiamo prepararlo per forza prima clicchiamo pubblica pubblicazione ora appare pubblicazione in corso e il documento è stato pubblicato una volta che è pubblicato su questa bacheca apparirà automaticamente sul telefonino o tablet degli studenti compiti coronavirus andiamo uno eccolo qua matematica espressione in questo caso qui possiamo solamente visualizzare il file che abbiamo ricevuto quindi non possiamo modificarlo infatti questo primo metodo quello della bacheca io lo consiglio per un dettato magari un testo da far leggere il secondo metodo invece che è più completo lo otteniamo andando a cliccare sul lavori del corso che si trova qui in alto assegni i lavori al tuo corso cosa possiamo fare qui possiamo creare dei quiz con delle domande multi risposta e anche inviare dei compiti da compilare ed inviare indietro clicchiamo su crea clicchiamo compito possiamo far sapere come sarà valutato alcuni studenti ma i voti in questo video non ci interessano quindi andiamo avanti mettiamo il titolo del nostro compito mettiamo sempre matematica perché il file che ho preparato prima le istruzioni sono favore stative non mettiamo niente andiamo ad aggiungere il file che si aggiunge nella stessa maniera in cui abbiamo aggiunto il file nella bacheca quindi un link su un file online clicchiamo file se il file si sul pc possiamo o trascinare il file o andarlo a selezionare tramite l'esplora risorse del pc se il matematica 1 clicchiamo apri clicchiamo carica il file è pronto eccolo qui qui possiamo selezionare se gli studenti possono solo visualizzare il file se gli studenti possono modificare il file quindi tutti gli studenti modificano lo stesso foglio oppure creare una copia per ogni studente significa che ogni studente avrà la sua copia personale dove lavorerà soltanto lui scegliamo a chi mandarlo possiamo andare a tutti gli studenti o selezionare a quali studenti inviarlo io al momento in questo modulo ho due studenti inseriti possiamo scegliere punti da dare mettiamo senza voto al momento il voto abbiamo detto che non ci interessa possiamo dare una data di scadenza ovvero un tempo massimo dentro cui questi compiti devono esserci restituiti e possiamo dare anche un argomento clicchiamo assegna e adesso il compito arriverà sul cellulare dell'alunno se non appare subito ci basterà fare aggiorna ed eccolo qua selezioniamo la freccia sul basso e troviamo il file ecco qui il nostro bel compitino di arittimetica io ho messo arittimetica clicchiamo sulla matita se vogliamo lavorare direttamente sul file ora io ne risolvo una veloce veloce tanto per fare vedere che funziona perdonate la calligrafia ma vado di fretta fatto questo l'alunno clicca su salva e apparirà questa nuova finestra dove può o aggiungere un allegato in questo caso qui magari se i compiti li ha fatti su un foglio di carta e vuole mandare una fotografia di quello che ha fatto oppure consegna se vogliamo inviare solamente quello che abbiamo modificato sul telefonino stesso qua ci dice che è stato consegnato ora andiamo a vedere completati uno e da fare zero perfetto i compiti li abbiamo finiti tutti adesso torniamo ad essere il docente e andiamo a vedere che cosa abbiamo ricevuto matematica consegnato uno possiamo vedere il nome dello studente che ha consegnato ok clicchiamo qui e dopodiché clicchiamo qui in basso visualizza compito qua ci sono due allegati nel primo allegato abbiamo l'originale questo è l'originale quello che abbiamo inviato noi docente il secondo che c'è scritto edit più il nome dell'alunno è quello fatto dall'alunno questo è l'originale vedete infatti e questo è quello dell'alunno con un'espressione sola fatto questo il docente può inserire un commento privato e inviarlo all'alunno che ha inviato questo compito qui non dovrà fare nient'altro che scrivere e pubblicare non dovrà scegliere l'utente fa tutto il programma in automatico terzo metodo per inviare i compiti clicchiamo sempre sul lavoro del corso clicchiamo su crea e andiamo a crearci un compito quiz mettiamo un titolo facciamo quiz facciamo facile qui andiamo a segnare poi a chi andrà clicchiamo qui ok no il tour non mi interessa al momento lasciamo scelta multiple in questo esempio e facciamo un bel quiz di geografia mettiamo capitale della Spagna capitale della Spagna clicchiamo opzione 1 e andiamo a mettere una delle possibili risposte mettiamo Madrid la prima la mettiamo giusta aggiungiamo una seconda risposta perché non abbiamo scelto di fare una scelta multipla possiamo mettere anche una terza facciamo la seconda domanda cliccando qui sul tasto più questa volta mettiamo il fiume più lungo d'Italia lasciamo sempre scelta multipla andiamo a mettere le tre possibili risposte mettiamo il tevere mettiamo il po e mettiamo l'arno clicchiamo sul più e andiamo a inserire una terza domanda selezioniamo scelta multiple altrimenti non risulterà diamo le nostre risposte una volta prima il test andiamo a dare la risposta corretta perché ovviamente il programma non sa qual è la risposta corretta selezioniamo la prima domanda e andiamo a cliccare su chiave di risposta e selezioniamo qual è la risposta corretta sulla prima domanda andiamo a Madrid scegliamo quanti punti dare per la risposta corretta clicchiamo su fine scendiamo alla seconda domanda stessa cosa clicchiamo su chiave di risposta selezioniamo la risposta corretta mettiamo i punti e clicchiamo fine terza domanda abbiamo inserito chiave di risposta selezioniamo la corretta diamo un punteggio a questa domanda possiamo dare qualsiasi punteggio non deve essere forse uguale tra le domande e il punteggio abbiamo fatto tutto questo adesso possiamo cliccare qui se vogliamo dare una grafica un po' diversa cambiare colori ma non è importante i fini del test dopo di che clicchiamo sull'occhio per avere una visione di come sarà il nostro test chiudiamo e torniamo alla pagina del test possiamo ancora modificarlo quindi cambiare il titolo mettiamo geografia mettiamo quiz mettiamo il titolo mettiamo la descrizione o comunque un messaggio e andiamo a cliccare sul tasto invia qua su ci appariranno tre possibilità ovvero invia per email ma noi lo escludiamo in questo caso e andiamo a cliccare invece la seconda che è crea link clicchiamo su abbrega link clicchiamo su copia torniamo torniamo alla pagina del compito incolliamo il link che abbiamo creato eccolo qui e clicchiamo su assegna qui c'è il quiz andiamo a vedere cosa succede invece nello studente ecco qui nuovo compito quiz lo studente le passerà a cliccare dovrà inserire la sua email in questo caso qui perché abbiamo messo email obbligatoria prima compilato il test gli servirà semplicemente cliccare invia e potrà anche visualizzare il suo punteggio che in questo caso è tutto corretto perché io sapevo già tutte le risposte alle domande nel frattempo cosa succede al docente andiamo a guardare clicchiamo sul compito di geografia e vediamo che assegnati due consegnati zero ed ecco qua le nostre risposte che sono positive 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 possiamo vedere le risposte sia per i singoli questo è il ripilogo possiamo vedere la domanda se vogliamo quindi qual era la domanda e se hanno risposto correttamente o no ci sono tre domande qui vedete tre ovviamente tre di tre perfetto torniamo sopra possiamo vedere individuali quindi come ha risposto ogni singolo alunno l'alunno 1 non ne ha beccata neppure una l'alunno 2 invece le ha beccate tutte e tre con questo concludo questa carrellata veloce sulle varie funzionalità del google classroom potremmo anche andare successivamente ad approfondire ogni singola voce spero che questo video vi tornerà utile soprattutto in questo periodo ma anche quando tutto questo finirà e si tornerà speriamo presto alla normalità e di che tutto buona giornata e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.